Hanno fatto rientro nel pomeriggio di domenica, atterrando all'aeroporto di Venezia a bordo del C-130J dell'Aeronautica Militare, i Vigili del Fuoco impegnati nei giorni scorsi a Liegi per l'alluvione che ha colpito il Belgio. Il team, composto da personale del Dipartimento della Protezione Civile e personale e mezzi dei Vigili del Fuoco per la ricerca e il soccorso in ambiente alluvionale, era partito giovedì sera per assicurare il necessario supporto alla popolazione belga. Il team dei Vigili del Fuoco, soccorritori acquatici e speleo fluviali provenienti dai comandi di Venezia, Treviso, Padova, Vicenza e della direzione interregionale ha operato nei soborghi di Liegi portando in salvo 40 persone rimaste isolate per l'acqua alta.